La responsabilità sociale al centro del dibattito oggi all'Università degli Studi di Salerno. Quali sono gli aspetti più importanti che vogliamo estrarre dal dibattito? Innanzitutto ci fa piacere dire che per il secondo anno di seguito il Salone della Responsabilità e dell'Innovazione Sociale fa tappa a Salerno. È un'anifestazione la più importante che discute di responsabilità sociale delle imprese, ma di tutte le organizzazioni pubbliche e private. Parte dalla Bocconi, otto anni fa, ed è un progetto che si sta sempre più consolidando. Io credo che sia importante per la nostra Università, per i nostri giovani, per i nostri dottorandi, per i nostri studenti, per i nostri docenti, discutere le responsabilità sociali. Che da un lato rappresenta un argomento di scientifico di grande importanza nel dibattito dottrinario e dall'altro ha anche un effetto pratico concreto perché riguarda la vita di tutti i giorni, la vita di tutti noi, di tutte le organizzazioni. Devo dire che io sono convinto che per oggi, per poter immaginare per un'impresa il successo, il successo debba essere coniugato con il progresso sociale. Quindi con l'attenzione rispetto alla responsabilità sociale, che non è un costo, non è qualcosa di esterno rispetto alla vita delle imprese, ma che riguarda l'agire delle imprese. E che secondo me conviene alle imprese, perché investire dal punto di vista sociale è un investimento di sicuro ritorno. Portiamo anche il caso della nostra Università, perché la nostra Università innanzitutto a breve pubblicherà il quarto bilancio sociale, per cui da sempre, non essendo in obbligata, affianca alla tradizionale rendicontazione economica e finanziaria, quella di tipo sociale. A testimonianza che questa è una caratteristica della nostra azione di governo. Quarto bilancio che significa otto anni, perché noi per scelta abbiamo fatto un bilancio biennale per poter garantire un migliore raffronto, una migliore evidenziazione dell'evoluzione del tempo. Dall'altro significa anche poter dire quanto sta facendo l'Università di Salerno per l'aspetto ambientale, sostenibilità ambientale e sociale. Nel quest'anno abbiamo postato in bilancio 10 milioni di euro per investire sulle energie rinnovabili, che ci consentirà di raggiungere per tutti e due i campus, perché Baronissi già lo è, sia per il campus di Baronissi sia per il campus di Fisciano, una sostenibilità, autosufficienza dal punto di vista energetico al 100%. Non avremo più una bolletta di energia da pagare. Questo che significa? Significa non soltanto un risparmio, come è evidente, di circa 3 milioni all'anno, che si è avuto anche grazie alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti con quelli di nuova generazione i LED, ma significa dare un messaggio che parte dalla trasparenza ambientale, ma deve abbracciare tutto l'agire della nostra università, quindi trasparenza gestionale e trasparenza amministrativa. Quindi un messaggio di grande speranza per i nostri giovani, per i nostri studenti, per le nostre famiglie che rappresentano il centro della nostra azione di riferimento e chiaramente tutta la nostra comunità. Noi abbiamo investito nell'ultimo consiglio di amministrazione, abbiamo fatto un piano sostanziale di videosorveglianza. Noi abbiamo un campus aperto e vuole continuare ad essere un campus aperto anche al territorio, perché ovviamente è un polmone verde che sarà sempre più verde a disposizione di un territorio intero. Però è chiaro che questo presuppone che tutti i nostri ambienti, perché abbiamo attrezzature molto rilevanti dal punto di vista economico, debbano essere adeguatamente sorvegliate. Questo deve essere un messaggio in cui ovviamente noi ci fidiamo, perché noi siamo convinti che il prossimo e che tutti quando arrivino in un contesto sano, come quello della nostra università, si comportino in maniera adeguata, diciamo uno standard di vita normale. Però è chiaro anche che questo tipo di investimento voluto dal consiglio di amministrazione significa anche rafforzare, garantire una maggiore serenità per tutto e tutti, tutti gli operatori che ovviamente quotidianamente agiscono all'interno della nostra università. Adesso inaugureremo tra poco il nuovo Terminal Bus, che è una struttura oltre a essere dal punto di vista estetico straordinaria, ma quella che è la funzionalità. Per cui io credo che i nostri studenti sanno che qua trovano tutte le condizioni per stare, stare sempre al meglio e anche oggi devono mettere la loro parte impegnandosi nello studio, perché questo è il patto che dobbiamo sempre più siclare con loro.